Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA, mondo cari allenatori, io sono sempre Andre e oggi siamo qua con un nuovissimo video delle rose nel 2035 che concludiamo diciamo la Premier League con il Leicester a grandissima richiesta, diciamo l'ultima squadra un po' da vedere tra le big di Inghilterra abbiamo detto che comunque il Leicester ormai è una vera e propria realtà dopo questo Leicester ci bloccheremo un attimo con le squadre, almeno con le squadre club nel 2035 perché in occasione, vi anticipo già degli europei, andiamo un po' a scovare e a scoprire le rose nel 2035 delle varie nazionali che secondo me può essere veramente interessante per vedere un po' tutti i giovani come sono nel 2035, le giovani promesse, come saranno appunto le nazionali con i vari regioni eccetera secondo me può essere veramente una figata, ma comunque senza perdere altro tempo direi di iniziare subito con il Leicester ci catapultiamo subito in porta e vediamo che c'è un italiano subito che ci accoglie ancora in Premier League ci sono praticamente più italiani all'estero in Premier League che in Italia ormai siamo arrivati a questa conclusione perché ragazzi ce ne sono veramente tantissimi e questo Brignola ne è una conferma, un portiere 27 anni di 1,92 con 81 di overall con delle statistiche veramente molto interessanti con addirittura un 91 di rinvio che è veramente eccezionale per tutte le altre invece caratteristiche direi che non c'è assolutamente male 83 riflessi, 80 presa, 80 di tuffo e 76 piazzamento sicuramente questo portiere Brignola 1,92 di portiere è ottimo, veramente fortissimo sicuramente per sostituire Schumacher era ottimale e poi abbiamo Dominic Kopp, croato, sicuramente non farà diciamo tantissima concorrenza a Brignola esatto, Brignola sicuramente sarà il primo, assolutamente il primo portiere poi ci sarà questo Kopp, si dice Kopp con la C con questo segno, non lo so però andiamo in difesa e diciamo che a questa porta diciamo che diamo un 6,5 perché Brignola è italiano, è vero andiamo in difesa e vediamo che ci presenta subito davanti un Manuel Akanji che ha 39 anni però purtroppo si vuole ritirare come questo Leonardo Balerdi quindi i primi due difensori centrali che ci mette davanti il Leicester si vogliono ritirare e quindi non possiamo andare a vedere un po' le statistiche però sicuramente Akanji credo che magari non ha 39 anni però se è arrivato prima all'Ester ha sicuramente fatto benissimo il difensore è pazzesco, velocissimo e super fisico quindi sicuramente al Dortmund si è fatto conoscere bene poi abbiamo Nicolai, oddio, Gitkiaer, mamma mia bravissimo al primo colpo 84 di Overola, 32 anni, 1,80 di difensore centrale con delle statistiche della madonna 92 di forza, 92 elevazione, 93 velocità scatto, 83 controllo palla contrasto in piedi 90, lettura difensiva 82 beh direi che questo è veramente un difensore con i fiocchi questo è veramente pazzesco Gitkiaer, lo ridico perché mi piace, è veramente un giocatore fenomenale credo che sia il primo titolare inamovibile di questa rosa poi abbiamo il Marcelo Herrera, argentino 36 anni, terzino destro di 1,80 e diciamo che per fare il terzino insomma non è proprio il classico velocità sulla fascia come difensore centrale può sicuramente fare qualcosina anche se un 70 lettore di difensiva è un po' pochino Gorka, Lirola, Kozok, spagnolo, pazzesco Gorka, Kozok come spagnolo non ce lo vedevo tanto però Lirola assolutamente sì un 76 di Overola, un terzino destro, guardate qua 22 anni, 92 accelerazioni, 83 velocità scatto dal punto di vista tecnico fortissimo 67 letture difensiva potrebbe essere un po' il regen di un Sergio Ramos a inizio carriera oppure di un Carvajal voi ragazzi ditemelo sotto nei commenti poi abbiamo Robert Radulovic, 31 anni, altro terzino destro 76 di Overola, di 1,89 con 83 accelerazioni, 85 velocità scatto beh direi che un bel Nikolai Gittkiaer, difensore centrale Robert Radulovic come difensore centrale ragazzi perché è alto 1,89 e poi questo Lirola come terzino destro direi che i primi tre difensori ci sono vediamo se un terzino sinistro uscirà fuori no, non uscirà fuori perché l'ultimo giocatore è un difensore centrale bosniaco Tomislav Spic, 69 di Overola, di 1,88 con 86 velocità scatto 85 forza, 84 elevazione però 65 direttore difensiva comunque diciamo che tirando un po' le somme questa difesa non è poi così male potremmo lavorarci assolutamente molto bene passiamo un attimo al centrocampo vediamo un po' com'è questo centrocampo ci sono soltanto 6 giocatori come potete vedere la Rosa e l'Ester nel 2035 è un po' limitata che sarà che stanno facendo magari qualche cambio qualche cambio generazionale o cambio proprio di Rosa comunque Mor, taglia, sis o talla? ditemelo voi nei commenti un esterno destro di 1,73 però ragazzi 49 milioni di valore con 82 di Overola questo secondo me è veramente forte guardiamo le statistiche 83 accelerazione 94 velocità scatto 89 elevazione 85 forza 83 agilità che è sicuramente ottimo controllo palla 94 dribbling 84 precisione e punizioni 85 potenza tiro 81 questo giocatore qua è veramente una bestia sembra un po' SAR diciamo così molto molto forte poi abbiamo Ryan di Allo CDC francese 77 di overall e diciamo un mediano completamente normale cioè non vedo assolutamente nessuna statistica molto più importante di altre Bruno Guimares oh questo sicuramente è stato un super talento tra l'altro Future Stars quest'anno quindi al momento ad oggi è uno dei talenti brasiliani più importanti diciamo e più promettenti dei prossimi anni a 37 anni sicuramente ormai avrà finito la sua carriera all'Ester ora 79 di overall di base con delle statistiche diciamo a livello tecnico assolutamente migliorato ed è diventato più o meno sicuramente quello che ci si aspettava a livello fisico giustamente è un po' calato Gaizka Sivera Salva 19 anni mediano CDC di 1,73 con delle statistiche che in realtà sono abbastanza simili a Ryan di Allo quindi sinceramente siccome questo è un bel giovane per come sono fatto io butterei in campo questo Gaizka Sivera Salva e invece di Allo lo metto un po' in panchina giusto per farlo crescere un po' magari anche per questioni economiche e poi abbiamo Oscar COC 36 anni spagnolo 80 di overall malino però a livello tecnico fortissimo non gli si può dire niente anche il 90 di dribbling e a livello ragazzi fisico agilità che è veramente un po' scarso però 36 anni ci può stare e l'ultimo è Filip Kumic 83 di overall 32 anni mezzala serbo 83 punto di overall 28 milioni e 5 di valore con delle statistiche ragazzi veramente molto molto interessanti sarà mica il reggente di Milinkovic Savic questo Filip Kumic e ragazzi potrebbe essere anche un 85 di altezza è molto alto quindi secondo me non è proprio così improbabile ultimo reparto da andare a guardare l'attacco ragazzi anche qua ci sono 5 giocatori e abbiamo Dylan Bakua il primo che ci mette davanti un'ala sinistra 32 anni francese 83 di overall 30 milioni di valore praticamente 87 accelerazioni 90 agilità 92 velocità scatto 81 finalizzazioni molto interessante questo giovane tiro dalla distanza 81 dribbling 87 passaggio corto 88 tecnicamente fortissimo questo ragazzo qua ragazzi forse è meglio andare a guardarlo anche ai tempi nostri che adesso sarà un giovincello ma attenzione poi abbiamo Tony Martinez che si vuole ritirare purtroppo quindi non potremmo andare a vederlo nel dettaglio Pepe Habib Ndiaye 23 anni attaccante 75 di overall chiaramente molto veloce mancino tra l'altro 87 accelerazioni 86 velocità scatto 87 agilità con un 75 di finalizzazione che sicuramente a 23 anni è buonissimo è molto molto migliorabile poi abbiamo Fer Nino spagnolo chiaramente Nino spagnolo 79 di overall 82 accelerazioni 82 velocità scatto per 1,90 di ediz 70 agilità elevazione 72 chiaramente c'è già 1,90 quindi se avesse di più insomma si arriverebbe al cielo praticamente forza 86 finalizzazione 82 quindi questo è molto interessante perché potrebbe esserci un 4-4-2 se vogliamo vederlo così con Bakua dietro a Fer Nino che gli gira che prende le sponde essendo molto veloce prende le sponde di Nino che 1,90 sicuramente lo saprà utilizzare poi molto forte fisicamente e anche di molto veloce e l'ultimo è Julian Alvarez che purtroppo si vuole ritirare anche a lui a 35 anni con questo visino con questo faccino si vuole ritirare quindi ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo video come vi ho detto ci fermeremo un po' con le squadre diciamo club nel 2035 ma commentate come sempre con quale valutazione da resta questo Leicester sicuramente devo dire che ci sono pochi giocatori ma è il caso di dire pochi ma buoni commentate se anche voi la pensate così iscrivetevi al canale lasciate un mi piace attivate la campanella e noi ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi ciao